Il 30 maggio 1944 è la data che segna una delle pagine più buie della storia di Sulmona e la strage di Piazza Garibaldi. 52 persone furono uccise, oltre un centinaio ferite da bombardamento dei cacci anglo-americani che colpì Piazza Maggiore durante il tradizionale mercato, Largo Faraglia, Piazza Carmine, seminando panico e morte. Ogni anno, il 30 maggio, le 12.10, con 52 rintocchi del campanone della Chiesa dell'Annunziata, tanti quanti furono deceduti sul Monaricord a quel massacro. La lapide commemorativa, situata nei pressi dell'Acquedotto, realizzata grazie all'impegno del compianto generale Italo Gianmarco con scultura dell'artista Annunzio di Pracido, fu inaugurata nel 2014.